il padrone di casa il padrone di casa il padrone di casa il padrone di casa io e me lo chiedi così sui tuoi piedi te lo metto su uno solo ma io non so che dire ma io sono un giugno e me ne vado vado dal compare almeno lui qualcosa da mangiare me la da Quasi quasi vengo anch'io dal compagno! Un posto me lo trova e qua non ci torno più! Povero bambino! Povero Greta! Ascui, quando fai brutto? Poi per la che mi tu muerto! E' permesso? Chi è? Buonasera! Oh consigliere, qual è l'onore! Per il consigliere! Una sedia al consigliere! Una sedia al consigliere! Allora avete visto? Si accomodi! Ma che onore! Che onore! Oh e che fai? Lasciate la consigliere! La migliore! Lasciate la migliore! La migliore non esiste! Quella di sotto! Quella di sotto è la migliore! Sicuramente la migliore! Che onore! Ma che onore! Oh scusi consigliere! E' la distrazione! Ciao miseria! Si accomodi! Non faccio cerimonie! Prego prego! Prego prego si ancora! E? E dunque vede Pasquale il fatto è questo! Io sono molto innamorato di una ragazza che si chiama Natascia che è la figlia di un certo Gaetano Pappalardo detto Fritto Misto perché tanti anni fa faceva il cuoco! Cuoco! Che bella parola cuoco! Sapete chi è? Quello che ha vinto l'appalto dell'immondizia ed è diventato ricchissimo! Ah si! Si! Si fa chiamare dottore ma in realtà non sa né leggere né scrivere! Ha una figlia bellissima! Anche lei ricambia il mio amore! Vorrebbe sposarmi ma... Ma il padre si oppone! Il padre spippone! Il padre spippone! Ma che spippone! Vägg. Magli fine! La storia gloria! La storia lorio gloria! In excelsis Deo Mentre se faccio tre tocchi E' per chiamare te e allora ti presento, hai capito bene? Non dubiti cavaliere, il ragazzo è molto intelligente, non è vero Beppe? Mi mi è il mio papà Mi mi è il mio papà, ti mi è il mio cacà Grazie, grazie signor Faccia pure Di di da da Tu, 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 tu No, quando stiamo a parlare tutti e tu Ma per tu stassi un tambur A voi dite che il vostro pisellonimo E io non ci voglio mettere lingua Non mi è messa Che tipo da ridere E che vuol dire? Che sarà questa funzione? Ehi, non lo so Però apri gli occhi Che al giorno d'oggi i maschi pensano solo a prendere in giro le ragazze Ah, ma che dici Beatrice? Lo sai che Eugenia è pazzo di me E che perciò il tuo carnaval del mio marito non era pazzo di me Eppure Ma perché Beatrice? Sei sposata? Ma c'è chi sta con la Statua della Libertà? No, dottore, la Statua della Libertà è così Dottore Ehi, allora Stai fermo Devi stare fermo e immorri Ah, come a giro? Ma come a sora Ma come a giro? Ma come a giro? Ma a lungo cosa succede? Tu non ti devi muore, hai capito? Eh, si è bellino di stare, dottore E trattieni, trattieni Ma stai fermo E a ruquerdo il tuo titolo, Cavaliere Mio zio Il ministro me lo dia Madonna ministro, io da che sono ministro Signor ministro, è tanto l'onore che mi fate di ricevere tutta questa famiglia nel sasotto di casa mia Che quasi, quasi, mi sembra di essere Bruno Vespa Sposto! Cavalino, ecco il gelato Vedo che lo tradizzo il gelato Ma perché è tanto disturbo? Noi, sempre gelati, sempre Sempre dentro l'Atlantico Ah, sempre dentro Ma vedi, ha detto come Si vuole mettere con noi Non si è più aperto con noi E già, perché lui non sa La fama nostra Non sa che gente di spirit siamo noi Ha detto due mesi Un anno Un anno Due anni Due anni Due anni Due anni, due anni, due anni Fatto D'accordo, eh? Grazie assai, ministro Domani se ne parla Adesso, Luigi, vattene Me ne vado E quando faccio bacio con papà? E vabbè, sai cosa si può fare? Quando ci mettiamo a tavola Cominciare a raccontare una barzelletta Vedrai che finisce tutto Momento Prima ci fate mangiare il primo, il secondo frutto, il caffè, il famezzo caffè, tutto Poi venite voi, non chiacchierciate come si aggiusta tutto, va bene? Va bene, facciamo così, carissimo Ma ciò canoscia cosa? Questo è il mio figlio Nooo Erano sei anni che non lo vedevo Ma parlati, come ti trovi in questa casa? Mimì è mio papà Vieni con mamma, ma vieni quante cose mi deve raccontare Vieni, vieni, vieni Ministro, mi perdoni, quel ragazzo è mio figlio Tuo figlio? Si, è mio figlio Eh, ma io volevo avere la curiosità di conoscere il padre Beh, certo, conoscendo il padre Eh, per potergli dire, sorta da bastardo in banamano Che c'ho coraggio se l'assigno creato un mezzo a nastri Tu sei un fatalezza Al padre Al padre Ma tu, ma ci deve essere un errore Eh, ma quello senza fegati, senza polmone Se ne va citando così E chissà che cosa deve essere successo Una cosa di grave Che cosa vi vuole dire quello? Vado a leggermelo subito Eh, senatrice, vi ho attaccato un'altra volta Signore Eugenio, si prende il sigolo, si prende i vestiti Beh, c'è tuo, sono pazzesco No, no, vedrà che c'è un errore, stai calmo Eh, eh Eh, va bene Onorevola Eh, attaccatevi pure voi qua Piano, piano, però Perché le gambe mi fanno giacomo, giacomo E a me mi fanno giacinta, giacinta Mi sento tanto debole che non si può capire Questa è l'ora, questa è l'ora Eh, con permesso, io devo avvisare il ministro che è venuto alla migliere E gli vuole parlare, se no non gli passa l'affanno Beh Signor Dudu E voi non dovete dirle bugie, se no siete un cattivo pisolonimo Allora me li dai tu 247 euro perché tanto per te 247 euro non so niente E si capisce che non so niente perché io me le sudo dalla mattina alla sera Sì da amica, Lucia, vatti con le buone, se no te ne faccio andare io via con le cattive Oh, sentite, io me ne vado con le cattive Cacchetti mi curto dazzo Ha ragione Tattaci! C'è sempre stai galata zauza UHH Zauza, me Ttsausa, me Mue, 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 mue Forigolara senza corrente Signor Guetta e mi dovete perdonare Ho organizzato io tutta questa finzione perché sono troppo innamorato di Natascia Sì, papà, perdonaci. Eh, sì, sì, perdonaci. Ma adesso io sono pronto a sposarlo. E col consenso di mio padre, che è qui presente. E qui c'è l'animo! Sì! Lui è Fitte! Fitte! Viti! Segretario Otto Viti. Eh, eh, vita a cus. Mi, mi è mio papà. Voto a te, io, bugiardo. Il tuo papà è questo qua. Oh, papà! Sì, papà tuo, che ha passato tanti guai. Dalla miseria vera a sta falsa ricchezza. Peccato, non è così abituato a fare il politico. Quella! E se fra che tu servizi da dove dici così? Lo perdono, lo perdono. E se fra che tu servizi da dove dici così?